Ovviamente non vogliamo esprimere nessun parere sul fatto che gli UFO possano esistere o meno, cioè i dischi volanti volgarmente detti. Certo è che in alcune rappresentazioni anche sacre del Rinascimento appaiono in certe pitture degli elementi abbastanza inconsueti. Bene, questa volta parleremo di uno dei dipinti che è possibile vedere perché si tratta della Madonna con bambino e San Giovannino attribuiti a Sebastiano Mainardi o a Jacopo del Sellaio che sono a Firenze, appunto nel Museo di Palazzo Vecchio, nella Sala di Ercole. Questo dipinto ha scatenato dal 1978, più o meno anno in cui è stato individuato questa peculiarità e questa particolarità un Vespaio fra gli ufologi perché riproduce in alto a destra del dipinto appunto un UFO o Unidentified Flying Object, cioè un oggetto volante non identificato. Bene, infatti si vede che dietro le spalle della Madonna ci sono le testimonianze di un incontro ravvicinato con un oggetto non chiaro e infatti fra l'altro si vede anche leggermente più in basso, all'altezza della spalla della Vergine, un pastore con un cane ed ambedue stanno guardando a questo oggetto, non stanno guardando la scena, cioè la Madonna o San Giovannino da un'altra parte, ma stanno osservando la scena, addirittura sembra che il pastore si copra con una mano per ripararsi da una forte sorgente luminosa. In un articolo di Daniele Bedini che ha pubblicato sul notiziario UFO, lui scrive si rileva chiaramente la presenza di un oggetto aereo color grigio piombo inclinato sulla sinistra e dotato di una cupola o torretta, apparentemente identificabili come un mezzo volante di forma o voidale in movimento. Ovviamente gli storici dell'arte, non solo e anche ovviamente tutti quelli che negano che possa trattarsi di un UFO, richiamano ad uno dei topos, dei topoi appunto che sono presenti nei dipinti del periodo in cui praticamente avviene l'annunciazione della nascita da parte di un angelo che è posto su una nuvoletta e che addirittura in un altro dipinto è ben visibile appunto, il pastore che guarda verso questo angelo parandosi con una mano appunto come a pararsi dalla luce troppo forte che arriva da questo. Perciò si tratta di una nuvola o si tratta di un oggetto non identificato che il pittore ha voluto riprodurre oppure semplicemente di una macchia come ha detto Sgarbi recentemente in un programma televisivo ma questo ovviamente noi non possiamo stabilirlo. Certo è che vale la pena di guardarlo perché è comunque una cosa originale se non altro è un modo di rendere una nuvola in una maniera piuttosto strana, ecco piuttosto fuori della norma. Probabilmente è soltanto un richiamo all'iconografia del periodo con un problema che si è creato magari al pittore che ha risolto coprendolo in questo modo senza mettere l'angelo, questo ovviamente non lo possiamo sapere. Grazie 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 Grazie